Il programma Gioventù in Azione Si tratta di progettualità che non sono conosciute dai ragazzi del territorio e che sono rivolte a fasce di età da 18 ai 30 anni, cioè appunto il pubblico dell'informa giovani. Che cosa possono trovare? Si tratta di progettualità che permettono ai ragazzi con finanziamenti dell'Unione Europea di passare dei periodi da due settimane fino a un anno all'estero, facendo delle esperienze formative nel campo dell'educazione non formale. Tutte esperienze che poi una volta rientrati nel loro territorio li permetteranno appunto di avere delle maggiori competenze. L'educazione non formale, vogliamo chiarire questo concetto? Allora, esiste il campo dell'educazione formale che è quello che fa parte del processo di apprendimento di un individuo all'interno del mondo scolastico, per capirci. Poi c'è tutto il mondo dell'educazione non formale che è tutto quello che è al di fuori della scuola. All'interno dei processi di apprendimento di una persona nel corso di una vita, l'educazione non formale rappresenta l'80% delle competenze acquisite. Cioè tutti quei tipi di esperienze che vanno dagli stage formativi, oppure un'esperienza di volontariato all'estero, un'esperienza di servizio volontario europeo e così via, che permettono ai giovani di acquisire delle competenze e di migliorare quello che è il loro curriculum vitae. Si parte dal presupposto che purtroppo in questi territori innanzitutto queste possibilità sono poco conosciute. Quindi il primo passo che è stato fatto in questi mesi è stato quello di informare i giovani su queste opportunità. Parliamo di progetti finanziati dall'Unione Europea che vengono utilizzati dai ragazzi soprattutto del nord Italia, mentre i ragazzi del sud Italia conoscono poco di questo tipo di opportunità. Avete sentito, stage formativi, corsi di volontariato all'estero, tutti i pacchetti che al nord Italia sono più conosciuti, mentre sono meno conosciuti al sud. Lavorare quindi su questo gap tra nord e sud può essere uno dei modi per far crescere il meridione, sotto il profilo delle opportunità offerte ai ragazzi. Ora invece cerchiamo di inquadrare tutti quelli che sono i servizi offerti dal centro e soprattutto vediamo con quale logica si cerca di far crescere e maturare questi ragazzi di San Giorgio a Cremano. Vediamo. Responsabile di questo colorato in forma giovani, abbiamo visto tanti sorrisi, tanti ragazzi, segnali di vita? Sì, segnali di vita sicuramente perché noi nel corso degli anni abbiamo provato sempre a puntare su degli obiettivi ben precisi che erano quelli della partecipazione attiva dei giovani. Siamo stati fra i primi comuni che sono riusciti a fondare il forum giovanile, secondo le indicazioni della regione Campania. e visto poi che questo forum funziona, sì, ma non rappresenta del tutto i giovani di San Giorgio, siamo andati ben oltre coinvolgendo tutti i ragazzi in una serie di progetti che mano a mano sono scaturiti proprio dai bisogni dei ragazzi. Facciamo alcuni esempi. E' una serie di ragazzi che sono centrate, sì, sul volontariato e sulla mobilità internazionale, però poi alla fine creano una nuova visione della vita cosmopolita nei ragazzi che quindi sono preparati alla vita in modo differente rispetto a quelli che rimangono così in provincia a guardarsi attorno.